E' bella a tutti ragazzi, qui è Simone, chiamata C4No E oggi siamo un nuovo video su Quest Royale E oggi, vabbè, faremo sempre la sfida 2 contro 2 Domani vi porterò un bel video su un nuovo, nuova carta Dovrebbe essere interessante Cannone a rotelle Poi, vabbè, poi domani, tanto domani ci sta Intanto vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale Se ancora non l'ho mai fatto, supportare questo, vabbè, questo canale Che è in crescita Ovviamente sono il canale Lofu Team Che saluta a tutti Vabbè, andiamo a fare le nostre partite Un po' che Ecco Siamo in arena leggendaria Già parte cattivo, mazza E noi partiamo cattivi proprio Non posso buttare il gigante perché non ho Delisir Fate una cazzata Vai 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 vai, un gigante No, che pappa Vai danni Danni, danni Danni, danni Mamma mia E questa la battiamo, proprio vattene, proprio mamma mia, e questa la battiamo schifosa. Vai, partiamo cattivi, siamo persi, va bene, dai, che cosa potremmo sostituire? Potrebbe servizio Megaschier, vai, poi mettiamo il Megaschier, caloso, questo è il mutuo, non mi tagliaccio, non mi spiegare. Cattivi, 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 mamma mia, mamma mia, veramente bravi. Ah, adesso è un curato, eh, ti amo, un curato. Ti abbiamo in curato. Sprecato una furia. è sicuro per la scarica un serbione allora qua mettiamo allora qui aiutiamo con gli sgherri il domatore ma che gli fa? è spiegato tutto è che appena spiegato la furia almeno butta qualcosa capirai ce la butta raggiù vai 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 partiamo gatti qui gatti 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 e adesso ci fa il culo difendi almeno non difendi ci posso difendere non ce la favo seconda sconfitta adesso sto in gioco speravo almeno quell'ultimo gigante logio ok ok mettiamoci invece però un po' il barile allora allora vai partiamo gigante bombarolo mamma mia tre moschettieri bella cosa ne abbiamo tolto non ci ha fatto niente particolare vai te l'attacco nooo vedi la gente come guitta è non ce l'ho non ce l'ho non ce l'ho ma c'è anche guitta ma piuttosto so non posso fare niente da solo ho guardato potete mettere una cosa per me e adamo vinta è meglio che posso fare niente e adamo vinta posso fare niente tre partite perse cioè facciamo l'ultima vai mazza vai facciamo l'ultima è è è è è è è questo è un gioco non posso mettere è un gioco ma 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 fa qualcosa o qui difendi qua grande ok qui fanno danno abbastanza ahah rincaccia adesso eh butto butto barriere ti cazzi la mente eh butto non no no e mortaio è mortaio mortaio ma partiamo cattivi ma vabbè questa vittoria ci sta dai vabbè tre vede quante due sconfitte vabbè una vittoria mi ce l'ha fatta tanto non perdiamo niente non vi preoccupate ma se io metterò il barrio dei copi in qua guarda difende guarda il bucchio aiaaah perché ci fa male bello bello mi fa molto male adesso bella vittoria abbiamo giocato bene ma vuole dar certo va bene ragazzi questo video è tutto spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto vi lascio in descrizione il mio canale telegram se volete unirvi unitevi così sapete tutti i miei video e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento domani domani farò il video una live faccio una live domani verso le le 10 10 e mezza massimo 1 non so poi li vedi verso le 10 e mezza 10 e 11 dai faremo una sfida evento cannone e bene niente in descrizione c'è il mio canale telegram ragazzi bello a tutti opoll Angel agonero 3 2